«Poi Gesù prese con sé Giovanni e Giacomo e Pietro e salì su un monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e il suo vestito diventò candido e sfolgorante. Ad un tratto si videro due uomini avvolti di uno splendore celeste erano Mosè ed Elia e parlavano con Gesù. Tu realizzerai il piano di Dio che uccideranno a Gerusalemme. Quando stavano per andarsene, Pietro disse a Gesù, «Maestro, è bello per noi stare qui. Faremo tre tende, una per te, una per Mosè, una nuvola li avvolse con la sua ombra, e una per Elia, e i discepoli ebbero paura. E dalla nube si fece sentire una voce che diceva, «Questo è mio figlio, che io ho scelto». Ascoltatelo. 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 Ascoltatelo.